Buongiorno a tutti ragazzi, qui è il mille che ti saluta e oggi vedremo il finale della di Wendy's Fit, il capitolo di buono, 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 sono due, 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 Milano non è un'esplendimento La torre di te Se la quanti Così Ci sono un'esplendimento Trimite per te Espeite Dicis Dicis E che La testa che trova E si scende La testa che si stira Sul letto Secondo me lo so A che chiacchi Bene Non guarda così Se l'avevo voluto Io da parte di loro Alla voglia di fare tutto questo Poi Avevo visto qualcosa E mi tocco su un attimo E' ritornata la mamma E' ritornata la mamma E' ritornata la mamma alla fine E' ritornata la mamma alla fine Ma va bene Perché le chiamano quindos E va bene Certo E' ritornata il treno E tu questo son Si guarda la testa che fosse Come non ciò Si chiedos Ma va bene Vabbè 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 Questa è la fine Questa è la fine Chi dossa Questa è la fine Questa è la fine Io Vabbè Mi offri E' ritornata va bene oh cazzo non puoi andare a bussare no non puoi andare a bussare non la prendi la mamma non andare mamma non andare non scappa mamma no mamma ma poi hai capelli di bacon ma perché mamma sì ma perché poi si è buttata ah comunque l'ho buttato pure vabbè continua no vabbè vabbè poi quest'era che poi ah ma l'era congresso partivo alla fine so che che da te dis è di strada talmente per te scappa in massa si è sereno io ho trovato solito che lo imparo perché basta vedere l'ammaggio cioè si vede pure c'è non potevano fare nulla io senza tipo senza finestre che ti facevano vedere trumante reddito e abbiamo visto che ci servono le batterie ma le dovevo cercare l'ammaggio ah ecco l'ammaggio spero che l'ammaggio spero che l'ammaggio non so l'ammaggio spero che l'ammaggio spero che l'ammaggio spero che l'ammaggio spero che l'ammaggio Quando mi prenderà La nostra caldella Ma e la sua Se la sua caldella non credo bene La sua caldella non crede Vabbè, troppo bene. Bene, poi, io metto ce l'ha già. Ma ora si rilassa. Ma perché ti rilassi? Perché non ho dormito perché ci vuole uccidere. Tutta il colpo dei due mostri. Ecco il polpo. Mi devi mettere tre dei singoli. Oh, l'acqua si è conservata. Per il tuo testo viene un cazzo. No. M. G. C. T. E vai. Ora si. Bene. Ma perché non ve lo sentire? Tu non potete andare. Infatti è giù. Io sono. No. No. Non potete andare. Ma perché. Oggi si. Nascolti ti. Bravo, ti. Sì, me ne vado, io ti sei nascosto, ma io mi trovo la donna, ma c'è, se mi mette in alto con la sezione, ecco, io pensavo, sorriva la pioggia, guarda come se, guarda come è forte, io vorrei essere come noi, Dick Bull, no va bene ragazza, è troppo forte, poi la rimetterò la boccia di Google, mettica, poi mi fanno un video sulla, mi metterò la boccia di Google, tranquilli ragazzi, ma, padre, ma se l'abbia, tu non fai scendimenti di nascondiglio, ma io scherzavo, Oh, ma che cos'è un indietro, guarda, comunque la rimetterà è bella, e se possono prendere anche un indietro, così, Non vado, 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 non vado 5 5 5 5 5 5 5 6 8 9 10 12 12 14 14 15 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 16 16 16 16 17 15 16 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 17 18 19 19 19 20 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 20 20 20 21 20 21 21 22 22 22 22 23 23 21 22 23 23 23 24 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30